Ciao, sono Luciana Ferri, una naturopata riflessologa al Pantare di Sesto Fiorentino e sono allo Smell Festival oggi, sabato, per parlare degli oli essenziali, del loro utilizzo per mostrare poi praticamente il loro utilizzo sui punti del corpo in particolare ora lavorerò sui piedi perché gli oli hanno delle proprietà che arrivano agli organi direttamente interessati, grazie Grazie